Intanto la giusta mentalità, dove io mi rispettio, cioè voglio lavorare con i giovani, organizzazione, cultura del lavoro, soprattutto lungimiranza. Lungimiranza significa di lavorare in prospettiva perché laddove la materia è ancora da segrezzare, da formare, da plasmare, è comunque stimolante, è motivo di grande impegno e soddisfazione per noi.